L'obiettivo è sicuramente di essere ambiziosi in una società che dal canto suo ha iniziato a spianare la strada secondo me già da un paio d'anni, quindi c'è da percorrerla e cercare di essere uniti e dare il massimo quotidianamente perché poi se vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti non dobbiamo solo basarci sulle chiacchiere ma fare i fatti e pedalare forte. Ci racconti com'è nata, come si è sviluppata la trattativa che mi pare sia stata anche molto molto rapida? La trattativa è stata semplice, da Frosinone non c'era più la possibilità e la volontà di proseguire un percorso e con il mister avevamo comunque un buon rapporto già da Lecce e è bastata una telefonata per far dire di sì. Quali differenze possono esserci tra le vittorie ottenute finora in piazze sì importanti ma non così importanti? La quinta città d'Italia, insomma differenze ci sono? Sicuramente le differenze ci saranno ma vincere non è mai semplice, se pensiamo che basta dirlo abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo far quadrato su quello che sono gli intenti dell'allenatore, dobbiamo ascoltare e concentrarci sulle direttive che ci dà, mettere in atto i suoi meccanismi e cercare di dare il massimo. Poi naturalmente in una piazza così importante con tanti tifosi che saranno secondo me un grande valore aggiunto sarà secondo me anche tutto più semplice. Alessandro Amato, Tirema è ben trovato, partecipare alle conferenze di San Paolo e Luciani è semplicissimo, per le domande bastano tre parole, come si vince? Scendiamo nel dettaglio. Come si vince? Si vince percorrendo un percorso tutto insieme, si vince cercando di alzare l'asticella quotidianamente, si vince cercando di perdere meno duelli possibili il sabato, ma secondo me si vince dentro a quelle quattro mura che sono per me sacre, cioè lo spogliatoio. Quando hai uno spogliatoio coeso, compatto, che acquisisce una mentalità vincente, e per mentalità vincente non significa vincere tutte le partite, ma significa pur perdere anche qualche partita, però essere consapevoli di aver dato tutto. E quando tu sei consapevole di aver dato tutto in campo e non hai nulla da recriminarti, significa che già stai un bel pezzo avanti. È normale che questo sarà un gruppo che sta nascendo in questi giorni da questo ritiro, dobbiamo essere bravi, come ho detto prima, a seguire le direttive dell'allenatore, però dobbiamo creare una mentalità vincente. Per far questo dobbiamo essere tutti, tutti i naviganti devono essere pronti a remare dalla stessa parte. Direttive dell'allenatore Spogliatoio Unito, io allora non ho equivocato quando ieri ti ho visto urlare in campo, perché tu vuoi creare questo spirito che nasce anche dalla tua esperienza. È come se non sembrassi nuovo, già immediatamente hai voluto dare la tua impronta ai compagni. Ma sai, arrivato quasi a 36 anni, qualche responsabilità in più, è giusto che uno se la prenda. Poi con delle partite alle spalle cerchi di dare quei consigli, magari ai più giovani, per farli trovare subito pronti, perché questo è un campionato che non aspetta. Questo è un campionato che o ti fai trovare pronto oppure ti si mangia. Se pensiamo che anche l'anno scorso ci sono state delle squadre costruite per, non dico vincere, ma quantomeno per fare il play-off e o non hanno fatto i play-off o addirittura sono retrocesse, ciò significa che dobbiamo farci trovare pronti, perché questo è un campionato che quando vedranno di giocare contro il Palermo tutti metteranno qualcosa in più e se non siamo pronti a questo sbatteremo i denti e ci faremo male. Ciò significa che da questo ritiro dobbiamo essere coesi, dobbiamo essere pronti, dobbiamo alzare già l'asticella a livello mentale perché non ci aspetterà nessuno, anzi se potranno ci vorranno fare del male e noi non ce lo possiamo permettere. Tu hai giocato contro il Palermo con il Barbera Pieno, la storia tra Palermo e Frosinone non c'è bisogno di ricordarla. È un luogo comune oppure il Barbera Pieno può essere davvero un'arma in più? E poi la campagna abbonamenti è iniziata a sprombattuto, però magari se Luciani dice la sua la gente corre ancora di più ai botteghini. Ma io sono un componente di questa squadra, di questa società e cerco di trasmettere quelli che sono i miei pensieri. È normale che entrare in un Barbera stracolmo è un vantaggio per noi e deve diventare uno svantaggio per gli altri. È normale allo stesso tempo che per riempirlo ci vogliono sia tanti abbonati ma tanto amore per questa squadra e siamo noi a doverla far innamorare la gente nei nostri confronti con prestazioni, con atteggiamenti, con corse, con dedizione, con attaccamento alla maglia. È solo queste, secondo me, sono le vere ricette per far sì che possa essere un anno veramente di grandi soddisfazioni e mi auguro che possiamo riportare tutti insieme il Palermo dove merita. Hai già detto che Corini è stato importante per la tua scelta, ma che parola ha usato il mister per convincerti? Ma io quando ho visto il suo nome al telefono già avevo un po' intuito, no? E poi devo dire, l'ho detto l'altro giorno ad una persona a me molto cara che probabilmente ho un conto in sospeso con lui a livello morale perché quell'anno a Lecce non è andata poi come sarebbe potuta e dovuta andare quindi un piccolo debito nei suoi confronti e spero di ripagarlo nel migliore dei modi. L'hai trovato diverso rispetto ai tempi di Lecce? L'ho trovato carico, molto carico e questo devo dire che lo porta ancora di più a, se vogliamo, trasmetterci quella voglia che ha di portare questo Palermo dove deve arrivare. Dei compagni, conoscevi già qualcuno? Cosa vi siete detti? Conoscevo bene Di Mariano perché avevamo giocato insieme, avevamo avuto un anno molto bello insieme e devo dire che mi ha dipinto una città fantastica, un tifo splendido ma quello nella storicità di questa piazza già lo conoscevo per questioni passate, voglio dire. e mi ha descritto un gruppo che ha voglia, aveva voglia e l'ho trovato voglioso di fare le cose fatte bene. Ciao Fabio, Roberto Parisi, Stadio News. Sei stato accolto molto bene dall'ambiente ai tifosi, c'è stata molta soddisfazione per il tuo arrivo. Ti volevo chiedere cosa porta Luciani a questo Palermo? Abbiamo detto esperienza, leadership, cos'altro porta Luciani? Porta aver sposato un progetto perché poi senza ambizioni secondo me non si può andare avanti. Alla soglia dei miei 36 anni scegliere Palermo è stato un po' anche ricominciare se vogliamo perché una piazza storicamente così importante, una città così grande e ambiziosa o lo fai con l'entusiasmo di un ragazzino oppure rischi di prendere trambate nei denti. E devo dire che appena è arrivata, come ho detto prima, la telefonata non ci ho pensato su due volte perché l'ambizione di dover ridimostrare, perché nel calcio non ci sono crediti, questa ambizione di dover dimostrare ancora una volta di poter essere ancora competitivo che ti mantiene quella gioventù mentale ma soprattutto fisica per cercare di dare qualcosa di importante a questa squadra che possa essere l'esperienza, che possa essere un aiuto al compagno ma soprattutto il rimettermi in gioco ancora una volta in una categoria che è difficile da superare. A proposito di questo ultimo concetto ti chiedo, hai firmato un contratto biennale se uno dei tuoi obiettivi è giocare in Serie A col Palermo, dato che è un paio di anni che l'hai solo assaporata. Tatticamente preferisci giocare a tre, a quattro? Quale dei due moduli esalta le tue caratteristiche? Guarda, parto dalla fine, a livello tattico mi rimetto a quello che è il credo dell'allenatore non sono io a dover decidere, lui e mi metto a completa disposizione. Per quanto riguarda invece l'altra domanda della durata del contratto mi permetto di fare una risata un agente immobiliare mi ha chiesto per quanto tempo ti serve la casa e io gli ho risposto con molta sincerità spero un anno solo, significa che mi hanno cacciato e le cose sono andate come devono. Però sicuramente il sogno che tutti i calciatori hanno è quello di giocare in Serie A nonostante la mia età avanzata, perché purtroppo quella anagrafica conta devo dire che l'ambizione sarebbe quella. Nicolò Ciluffo, medical.it, ciao Fabio, ben trovato. Intanto una piccola curiosità, in questi due giorni di allenamento ti ho visto spesso parlare con Butaro, che è un difensore comunque giovane quindi ecco, se puoi dirci cosa hai detto, che consiglio gli hai dato se in termini di esperienza o anche appunto tatticamente e poi cosa significa per un calciatore far parte di una galassia importante come quella del City Football Group. Grazie. Guarda, con Butaro abbiamo parlato a livello di intesa perché comunque essendo un terzino destro e stando anche molto vicino alla mia posizione cerchiamo di avere già un'intesa già dai primi periodi naturalmente tutto quello che posso dirgli è di essere intraprendente e di sfruttare quelle che sono le sue qualità senza avere alcuna remora d'altra parte ti dico far parte di questa società è una se non la più importante a livello mondiale e quindi è un orgoglio e dobbiamo cercare di portare in alto questa maglia e questo gruppo per ricambiare tutti gli sforzi che loro fanno per far sì che dobbiamo e possiamo pensare solo al campo senza avere distrazioni di altro tipo perché ci fanno trovare tutto pronto Chiara Ferrari Sportisli, benvenuto innanzitutto volevo chiederti una curiosità sul sorteggio del calendario che si svolgerà questa sera, sarà il primo anno di Serie B asimmetrica volevo capire dal vostro punto di vista se cambia qualcosa e se hai una preferenza per la squadra da incontrare al Sordio e poi per quanto riguarda il calcio mercato il nome in voga è quello di Insigne, lo sappiamo volevo capire se ti piacerebbe averlo come compagno e se lo hai sentito in questi giorni Guarda, Roberto l'ho sentito è carico e volenteroso di poter far parte di questo gruppo mi auguro che si possano chiudere presto queste trattative per far sì di creare quella coesione e quel gruppo forte che ci deve portare fino in fondo credo che lui possa spostare a livello tecnico e tattico gli equilibri delle gare perché comunque l'ha dimostrato anche lo scorso anno ha qualità importanti per questa categoria e ne sarei contentissimo se arrivasse poi per quanto riguarda il calendario ti dico, tanto sono da affrontare tutte prima o poi dobbiamo andare a casa di tutte e tutte devono venire a casa nostra dobbiamo solo farci trovare pronti ed è per questo che stiamo lavorando sodo sotto il punto di vista fisico ma soprattutto quello mentale per farci trovare subito pronti a chiudere Di Marco sì, l'importanza di avere in gruppo gente che ha vinto la B tu sei l'esempio massimo visto il numero di successi però sono arrivati anche Mancuso stessa cosa vale per Ceccaroni dei nuovi solo Vasis ma per ovvi motivi lo stesso Insigne ce ne sono altri come Di Mariano che ha vinto con te quindi l'importanza di avere in gruppo gente che conosce la parola vittoria cosa vi possono dare invece quelli che hanno vinto la C ma non sanno cosa si vince la B perché c'è questa trama penso a Bruno Ori, penso a Valente che sanno cosa significa vincere a Palermo che non è la stessa cosa che immagino che vince l'altro io credo che con la parola vincere si racchiudono tanti aspetti come ho detto prima non è mai semplice farlo e sicuramente non lo è stato dalla C alla B in questa piazza naturalmente quando si è tra virgolette un po' più abituati a giocare partite importanti e a stare in alto nella parte alta della classifica bisogna sempre mantenere quell'equilibrio tale e quella forza mentale di non farti perdere l'osso che ti sei guadagnato e ce l'ha in bocca anche perché poi tutti te lo vogliono togliere e tutti vogliono dimostrare che quando giocano contro una grande squadra siano allo stesso livello e quindi questa deve essere la nostra bravura è trasmettere quella tranquillità ai più giovani anche di sbagliare in qualche situazione ma che devono subito adeguarsi a quella mentalità vincente di cui parlavo prima perché se non hai una mentalità vincente sarai sempre altalenante invece noi non ci possiamo permettere di essere altalenanti ma dobbiamo mantenere un equilibrio tale che ci porti fino in fondo Quale squadra ti temi di più? Quale squadra ti temi di più? Io temo di più il Palermo ma semplicemente ma semplicemente perché deve essere il destino nelle nostre mani perché data la rosa che si sta componendo data la bellezza della città e del tifo non possiamo prescindere da alcuni aspetti e quindi dobbiamo temere solo noi stessi